Ciao a tutti ed eccoci all'ultimo brano. Dalla cantata 147 di Bach abbiamo il corale, il famoso bellissimo e avevo forse messo anche un esercizio relativo a questo. Cerchiamo di almeno unire un po' la teoria con la pratica insomma quando è possibile cercare di suonare o di cantare quello per cui di cui si parla. Questo è il pezzo un po' più difficile ma difficile perché come abbiamo detto nella spiegazione generale dei brani questo comporta la presenza della terzina quindi ci sono esercizi a parte anche sulla questione di saper battere, contare la terzina. Per semplificare lo so che poi non è proprio uguale a un tre ottavi però insomma in questo senso si su un movimento di due è uno due due ottavi noi ne facciamo tre un tarà in un tempo semplice ok dobbiamo mettere un due tre un due tattati no abbiamo detto mettiamo due noti diverse come se fossimo quindi se ta 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 quindi anche nella pausa si conta quindi questa abbiamo detto che è una prima terzina allora abbiamo detto che magari nella prima battuta si mette no la terzina ma poi se la cellula melodica ritmica è sempre più che melodica perché cambia la melodica però la cellula ritmica è sempre la stessa ok allora vediamo che la ripetiamo senza mettere il segno della terzina tre terzina cioè tre note al posto di due semplicemente questo è il significato no? Ce lo dice perché abbiamo tre movimenti da un quarto quindi in teoria dovremmo avere se fosse due crome due ottavi per ogni quarto movimento ne avremmo due 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 giusto quindi sei in totale invece qua ne abbiamo nove perché sono tre 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 ok poi ritorna invece la terzina non c'è più però in tutte queste che segnate qua che avete visto qua sono terzine quindi ta 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 quindi questa è una prima difficoltà però e l'altra difficoltà è un tempo moderato moderato non vuol dire che è lento non è neanche veloce però è continuo la difficoltà di questo poi vedrete anche quando io ve lo faccio come esercizio più lento con il flauto così almeno vedete la posizione e indicativamente il tempo che dovete suonare per cui dovete suonare il brano vedete che comunque diventa difficoltoso prendere i fiati il respiro in teoria bisognerebbe prendere dove comincia ancora di nuovo la stessa frase melodica cioè allora diventa e poi quindi eventualmente io ho preso un fiato anche qua perché non riuscivo l'ho fatto lento però in teoria un fiato ufficiale si dovrebbe prendere prima di nuovo questo fa no vedete che poi si ripete uguale tranne il finale però posso capire perché veramente facendo musica per prima riconosco determinate difficoltà quindi accetto degli dei fiati in più se lo fate lento se lo volete scegliere non volete farlo a tempo con la base eccetera lo fate più lento va bene fate un fiato in più cercate di farlo almeno in un momento fattibile cioè qua potevate farlo tutto in un fiato allora fatelo prima del della nota acuta così almeno avete anche la posizione il tempo per mettere la posizione quindi ok capito quindi magari sentitelo anche prima di lo solfeggiate ma prima sentitelo così vi fate un'idea di com'è no e di come potete affrontare meglio il brano soprattutto quando i brani sono difficili mai perdersi d'animo fate un pezzettino alla volta l'abbiamo visto già quando abbiamo studiato i vari brani una battuta alla volta non c'è problema io davvero arrivare ad un risultato tanto per è velocissimo non non porta a nulla quindi piccoli passi ma capiti e vedrete che come andare in bicicletta quando poi li capite e li fate quali sono certezze non le sbagliate ok per cui questa è una difficoltà abbiamo detto il tempo della terzina il fatto di farlo il più la frase musicale il più lunga possibile altra difficoltà che incontrate allora la battuta è di tre quarti ok quindi all'interno ci sono tre movimenti noi l'abbiamo già detto tre movimenti in questo primo brano parte il movimento è costituito da da terzino un movimento e quindi la questa è la struttura dopodiché abbiamo una particolarità di cui bisogna in cui bisogna stare attenti la battuta di pausa come vedete siamo sì in tre quarti questa pausa di quattro quarti perché perché lo sappiamo che quando la pausa comprende tutto tutta la battuta la pausa che si usa per indicare che c'è pausa in tutta la battuta quella tipica di quattro quarti indipendentemente cioè non si usa per i tre quarti il generalmente non si usa la pausa della minima quindi quella sopra il quarto rigo il terzo rigo col puntino cioè ok questa sarebbe due quarti più un punto e farebbe tre quarti ci siamo non si usa generalmente quando ci sono la battuta vuota ecco tutta l'intera battuta vuota contata contata perché ragazzi ricordatevi sempre le pause sono musica sono silenzio il silenzio musica quindi non potete non fare saltare perché siccome c'è una pausa vado avanti e no anche la pausa abbiamo visto che ci sono i segni di pausa perché ogni pausa ha il suo valore ha la sua durata ok quindi bisogna rispettare anche i silenzio perché questi fanno parte di tutta la melodia complessiva di tutta la composizione se si è da soli vabbè posso anche saltare la pausa ma tra virgolette se un pezzo è così però se io sto canticchiando qualche cosa generalmente accorcio le pause ma se devo cantare o se devo suonare mettiamo cantare su una base perché quello che magari fa di cantare no ok e e c'è una pausa nel nel testo ma la musica va avanti non è che siccome la pausa è nel testo io non la considero e vado avanti col testo no perché altrimenti sarei sulla base sbagliata quindi anche quando si suona e si canta tutti insieme è una ragione in più perché se io sono in pausa e non rispetto la pausa ma suono o canto in un momento sbagliato quando cantano e suonano gli altri questo da un risultato negativo ok quindi attenzione contare le pause quindi la pausa di tutta la battuta si insegna normalmente con questo quattro la pausa di quattro quarti ma qua dobbiamo saperlo perché non possiamo contare fino a quattro perché la battuta vale tre quarti quindi dobbiamo rispettare la pausa ma la pausa relativamente al tempo indicato all'inizio quindi io qua quando ho la pausa dell'attesa l'aspetto conto uno due tre non quattro perché il tempo è tre quarti ci siamo un po' altra caratteristica che troviamo in quasi tutti i pezzi qua abbiamo il si bemolli sono tutti praticamente in fa maggiore i brani no quindi abbiamo detto che per una questione del giro di quinte però del circolo delle quinte ma che studieremo più avanti eccetera la prima alterazione con i bemolli che troviamo alterazioni in chiave vuol dire messa dove c'è la chiave chiave di soli in questo caso alterazione un segno che può essere il bemolle o il diesis il famoso hashtag ok cancelletto insomma quello che è che voi ma non dovete chiamarlo così in musica ma diesis si mettono all'inizio dove c'è la chiave e cosa vuol dire che tutte quelle note che sono a quell'altezza ma non solo su nel pentagramma segnato ma più basse o più alte sono alterate sono alterate in che senso se ho il bemolle vuol dire che sono più basse di un semitono rispetto alla loro nota quindi questa è la terza linea del si il si naturale ha un determinato suono se metto il bemolle vuol dire che questo si questo in terza sulla terza linea ma tutti gli altri si che posso trovare ma per ora noi abbiamo solo quel si lì ok e si suona poco più sotto poco più basso quanto basso un semitono ok quindi con il scusate perdonate mi avevo spostato il flauto con il il flauto se questo il si naturale senza alterazione ok benissimo e abbiamo detto che anche il si bequadro quando cioè tolgo l'alterazione questo si naturale il si bemolle lo suono in questo modo quindi vuol dire che in questo brano tutti i si che trovate si suonano bemolli bene perfetto c'è un bequadro qua in mezzo no meno male risolviamo il problema lo troviamo in altri brani e ne abbiamo parlato in altri brani qua non c'è il si bequadro quindi abbiamo visto terzina pausa come scritta quindi attenzione a contare giusto il si deve essere sempre bemolle e poi abbiamo la seconda parte era quella che nel corale viene cantata ok questa che viene cantata dal coro ed è vedete più largo queste sono le notte lunghe che fa il coro dove e l'accompagnamento si ferma quando c'è la pausa e poi va avanti un bellissimo corale perché non cantarlo dipende va bene non mi potremmo fare un online a più voci come ormai si vede ovunque no a parte questo e quindi difficoltà qua non ci sono arriviamo anni in fondo c'è sempre la corona la corona dove parte non c'è nessun segno e mezzo quindi vuol dire che comincia da capo attenzione perché io vabbè ve lo faccio fare una volta se volete fare con la base che io vi ho messo anche più lenta potete provarlo se invece volete affrontare questo pezzo con queste difficoltà lentamente contentissima che lo facciate assolutamente e rispettate sempre comunque ripeto la velocità che voi avete deciso di prendere posizioni del flauto ecco questo brano ha un'altra difficoltà e il si bemolle non lo considero più una difficoltà perché bene o male l'abbiamo capito assieme alle nostre note dal do 3 al re 4 che facciamo no le sappiamo fare o le abbiamo sapute fare non le sappiamo le impariamo ma di per sé non sono difficili il si bemolle abbiamo detto anche il fa diesis lo troviamo forse non l'abbiamo ancora trovato noi vabbè ma comunque anche quello non è una difficoltà qui invece abbiamo l'estensione che arriva fino al fa 4 quindi il fa 4 qual è quello sulla quinta linea eccolo qua questo qua e quindi è anche il mi il mi 4 cioè noi siamo arrivati fino al re 4 quindi il do no il do 4 allora guardiamo no le posizioni il do basso che è il do 3 ok il re mi fa sol la si naturale si bemolle abbiamo fatto poi il do portavoce chiuso il re tengo appoggiato tutto aperto tranquilli ci siamo e siamo arrivati qua e il mi nel quarto spazio nel quarto spazio e il fa sulla quinta linea come si fanno allora il mi su nel quarto spazio si fa praticamente come il mi basso noi mi 3 ci siamo però con il portavoce leggermente aperto ci siamo è chiaro questo però trovate anche nel foglio delle posizioni è se non ve le ricordate se non volete vedere tutto questo video ok quindi così e il fa secondo voi come si farà il fa siamo ancora naturale non alterato è si fa come il fa 3 il fa basso ok solo che abbiamo anche qua leggermente il portavoce aperto il portavoce pochino non metà un pochino pochino ci siamo quindi la difficoltà in questo è che ci dobbiamo leggere quelle due note che sono un po più acute sono anche un po più veloci e porca miseria perdonate questo intercalare devo spostare leggermente il portavoce dietro e poi magari lo devo chiudere subito è quindi bisogna solo allenarsi quindi allenate mente lettura vita un po di tutto ok quindi non so se si vede no non si vede ho anche aperto pochissimo ok stessa cosa questo è il mi questo è il fa ci siamo va bene quindi la difficoltà questa un'altra ma semi difficoltà non tanto non tantissimo è praticamente questo gruppetto ops questo è anche questo ok perché abbiamo praticamente la scritta sono una croma e due semi crome allora praticamente questo allora lo faccio da qua che mi più comodo toccarlo allora questo sol scritto così ok guardate è un sol e poi lo scrivo di qua abbiamo il sol che è una croma vedete ops legato a queste qua sono questi allora queste questa piccolina con i due uniti sono praticamente questi ok quindi sono questi ci siamo quindi allora questo sol è una croma e queste due note hanno due trattini cosa saranno rispetto a questo ottavo rispetto a quella croma semi crome sono la metà tutto è divisibile in due no siamo in tempi semplici quindi una croma è fatta da è realizzata da due semi crome quindi io ho un quarto movimento battere e levare formato da un ottavo e un ottavo ma un ottavo è divisibile in due formato da due sedicesimi no due semi crome quindi uno quarto oppure una una croma un ottavo un ottavo un ottavo oppure tan 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 sedicesimo 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 Ci siamo, per cui anche questa suddivisione sarà, ok, se io devo, matematica, se io a questo punto posso dire che un quarto è dato da due ottavi e dato da quattro sedicesimi. Ci siamo? Quindi questi sono ottavi e questi sono, questi sono ottavi, sono due ottavi e questi sono quattro sedicesimi. Quindi questo ritmo assieme a questo che però qua non lo leggo più perché c'ho scritto dietro, vabbè scusate, allora questo diventa, allora diventa sol lassi, quindi sol lassi, vedete? Allora sol lassi, quindi sol lassi, la, ok, e poi sol che è il terzo movimento, sol lassi, la, sol. Ci siamo? È chiaro questo? È benissimo, quindi basta, nient'altro, però capite che non è facilissimo, non è impossibile, per cui pezzettino vi va, potete vedere qual è la difficoltà, guardate, va benissimo, eh, provateci. Ora, vediamo di solfeggiarlo. Mi sa che in questo è un po' più di difficoltà a leggerlo perché a un certo punto ho scritto le cose dietro, quindi non le vedo contro luce, per cui a un certo punto, soprattutto qua in fondo, mi fermo perché non ci vedo. Oppure lo leggo da così, ma così lo devo leggere il contrario e so che sbaglierei, per cui, ok, allora, pronti? Diventa un fa sol la do si si re do do fa mi fa do la fa sol la si do re do si la sol la fa mi fa sol. do do mi sol si la sol la fa sol la do si si re do do fa mi fa do la non vedo più niente? do la fa si scusatemi fa sol la re do si la sol fa do fa mi fa uno. quindi fa uno. Ci siamo, ok? Perdonate qui dove ho dovuto guardare. poi vediamo questi forse riesco a leggerli da qua. No, allora, abbiamo detto fa uno, qua lo contiamo in due perché intanto non è una terzina. ci siamo, avete capito, eh? Questo. Poi la si do do si la sol uno. uno due tre la si do la sol la si la sol fa uno. la si do la sol la si la sol fa uno. ok? O meglio, o meglio tre in teoria perché è sul terzo movimento. va bene? Avete capito? Quindi questo gruppetto? pa ti da sol la si la sol. quindi ci siamo, quindi ok e poi diventa qua dovete fa un e poi la si do probabilmente non è così l'altezza ma la melodia è questa ok ci siamo è come il metodo codale che in base agli intervalli chiamo le notte sempre lo stesso modo anche se perché gli intervalli sono quelli e penso di avervi detto tutto su questo brano perdonate questa la piccola incertezza di prima quindi difficoltà caratteristiche solfeggio e adesso ci sarà la parte suonata e buono studio ecco qua con flauto sempre molto lento è dovrebbe esteri almeno ok invece noi facciamo ok così almeno vediamo le dita bene e A presto A presto A presto A presto